Siamo a 7 km da Belluno, anche questo traguardo è stato raggiunto da Super Service Express, consegne sempre un po' prima degli altri, con la regia curata oggi particolarmente da Daniele Luttazzi e Salvatore Pedalino. Il nostro peggio è chiuso dietro nei bagagliai della Monti, ma che monetizza i nostri viaggi con la cattola e la destra, e manca con l'ex direttore generale della RAI, non c'era il mio vincolo Oscar De Rossi che ormai è abbandonato, anche lui ha fatto la sua fine, non si vede più, nessuno mi viene più a trovare, ne viaggiamo insieme, ne accendiamo insieme e ne facciamo più radio insieme. Abbiamo finito tutto, questo mi fa da una parte in mezzo a mezzo insieme e da un'altra un po' nostalgia, c'è sempre. Comunque, oggi dopo che facciamo questo viaggio dobbiamo andare in un altro posto ancora, dobbiamo toccare la riviera Romagnolo e poi tornare nella nostra Tattobato Calabria, Tattobato Calabria. Adesso sto pianificando il viaggio di ritorno, per vedere come fare i riportimenti del veicolo, il veicolo, la stanchezza è normale dopo il 24 ore di guida e l'interrotto di questa macchina. C'è lui qui in Trentino, c'è, penso sia in Trentino a Tattagio, qui in provincia di Mello, sta molto bene, ci sono laghi, le strade sono ottime, c'è una certa ricchezza che si vede, però mi chiederò sempre, dirò anzi sempre che l'Italia è comunque troppo grande, per essere unita. Mi sento qui come un pesce fondato dalla mia piccola padria, questo mannevonio qui del Trentino a Tattagio. Comunque tra poco saremo a Belluno. Va bene, fuori chiudere l'Oriente.